Ed eccoci qua, Ola Todes ritorna a Time's Up dopo un lungo periodo di pausa, mi scuserete per questo, ci sarebbe tanta attualità di cui parlare, per esempio le Olimpiadi di Pechino, le Olimpiadi invernali che iniziano tra pochi giorni, ci sarebbero gli Australian Open, a prescindere chiariamo dal caso Djokovic perché stanno succedendo molte cose interessanti sotto rete, ci sarebbero i playoff di NFL che sono nel vivo, anche nelle ultime ore ci sono giocate delle partite con risultati molto interessanti, però stiamo in maniera diversa sull'attualità, commentando una notizia di quattro giorni fa, una notizia che proviene dalla Francia, una notizia che sta facendo molto parlare in Francia e anche all'estero, per ora non ha avuto visibilità o attenzione in Italia, ma è una notizia secondo me molto rilevante e di cui è giusto rendere conto. Cosa è successo? È successo che con 160 voti a favore e 143 contrari, il senato francese ha approvato una mozione di un senatore di Rese Repubblicaine, che è il partito di Nicolas Sarkozy, per vietare l'utilizzo del velo nelle competizioni sportive francesi. Al momento questa votazione non è ancora legge, perché prima che sia effettivamente legge c'è un ultimo passaggio da fare tramite una commissione composta da deputati e senatori, un passaggio fondamentale, un passaggio nel quale si ipotizza che questa votazione potrebbe essere stralciata dalla legge vera e propria, anche perché al momento questa iniziativa, seppur approvata dal senato, incontra la contrarietà del governo e del presidente Macron, però in attesa che sia legge emerge comunque il nodo molto complesso del fatto delle atlete musulmane di poter fare pratica attività sportiva con il velo. È un tema che si pone su più piani. Il primo piano è un piano prettamente politico ed è giusto renderne conto di questo. Perché? Perché in Francia c'è tutta una storia risalente anche almeno a dieci anni fa, la contestatissima legge del 2011 che vietava l'utilizzo del velo integrale in pubblico. Vi consiglio di cercarla perché è una storia anche che ha avuto grossa visibilità anche nel nostro paese. La Francia ha tutto un discorso di secolarizzazione che tantissime volte vira chiaramente nell'islamofobia, questo va detto con grande ferocia, e che tante volte viene giustificata con gli attentati che hanno colpito la Francia in questi anni. Ma è un discorso che poi va a discriminare e ad aggravare la condizione delle donne e degli uomini musulmani che vivono in territorio francese. E tra l'altro c'è da aggiungere anche un'altra cosa importante, che questa linea è sostenuta fortemente dal governo Macron al punto tale che lo scorso aprile, parliamo di aprile 2011, è stata approvata una legge che vieta alle minori di 18 anni di poter indossare il velo in pubblico. Questa è una cosa non da poco, è una cosa che ha scatenato grandissime polemiche in Francia, che ha rimesso in questione tutto il discorso dell'islamofobia, tra l'altro è un tema che ha avuto anche molta rilevanza a livello social, infatti è stato rilanciato molto la battaglia per consentire alle donne di indossare il velo attraverso un hashtag Hands of my job, un hashtag che ovviamente ha anche un corrispettivo francese rilanciato inizialmente dalla modella somala norvegese Rawad Mohamed, ma che ha avuto anche altri echi internazionali, per esempio è stato sostenuto negli Stati Uniti dalla deputata Ilan Omar e dalla schermitrice olimpica Itbiad Mohamed, che è la prima donna musulmana statunitense ad aver vinto una medaglia olimpica, per la precisione ha vinto il bronzo a squadre nella scherma, battendo tra l'altro proprio l'Italia alle olimpiadi di Io. Ora vi risparmio il dibattito attorno all'islamofobia, però vi sottolineo un dettaglio che riguarda proprio a Marsh, perché negli scorsi mesi c'era stata una grossissima polemica attorno a una giovane candidata, Sara Zemmai, che si era stata candidata da En Marche ed era stata ovviamente insieme a tutto il resto delle candidate locali di En Marche, si era presentata con l'ijab che indossa regolarmente e Stanislas Guerini, che insieme a Macron è una delle figure chiave, uno dei fondatori di En Marche, si era schierato pesantemente contro Sara Zemmai e era stato accusato con toni anche pesanti da altre deputate e senatrici di En Marche di islamofobia e di discriminazione, quindi è un tema che è molto spidoso ed un tema tra l'altro che si collega alle presidenziali francesi, alla campagna elettorale che come forse sapete è molto tesa, c'è tutto il discorso de Zemmour, ma su questo non vado. Torniamo però al discorso del velo nello sport, perché ci sono altre due cose di cui parlare, una è prettamente francese e un'altra secondo me di metodo. La cosa francese è che al momento, in attesa di vedere se quella legge verrà approvata o se si diventa effettiva, c'è già un caso di sport in Francia che vieta alle donne di poter giocare col velo. È il calcio, infatti nello scorso settembre la federazione di calcio francese ha approvato all'interno della propria federazione il divieto alle donne di poter giocare col velo. È una cosa che ha creato molto scalpore, che ha fatto esporre anche molte atlete dello sport francese ed è nato anche un gruppo di... che contesta questo... questa iniziativa, si chiama Le Zijabe, lo potete... ora mi scusate col francese, vado maluccio, lo trovate su Instagram anche perché nel giro di pochissimo tempo ha avuto molto seguito e nasce da una giovanissima giocatrice, Khartoum Dembélé, che ha raccontato la sua storia di giovane donna, di giovane ragazza, che ha sempre giocato a calcio, l'ho sempre fatto con il velo, e a un certo punto si è trovata davanti a questo divieto della... di poter indossare il velo per poter giocare. E attraverso Le Zijabe non si è raccontata soltanto la storia di Khartoum, si è raccontata anche la storia di altre ragazze, tra cui per esempio Funé Diabra, che è anche una promessa del calcio femminile francese, e tutte queste ragazze, tutte queste donne raccontano la stessa cosa, raccontano il fatto che a un certo punto hanno trovato delle figure, che possono essere arbitri, allenatori o così via, che hanno detto o il velo o il campo. E tante volte queste donne hanno trovato anche la mancanza di solidarietà, sono state sole in questa battaglia, davanti a un palese caso di discriminazione che le poneva davanti a un grosso problema, cioè la libertà di poter giocare, ma anche la libertà di poterlo fare come ci si sente e crede. E qui entra la questione di merito. Nei discorsi di Macron, ma anche in generale anche extra francesi, c'è tutto il discorso della secolarizzazione, della laicità, però partono sempre, sempre, sempre da maschi, bianchi e occidentali. La parola delle donne, delle atlete sul loro corpo è una parola imposta, è una parola che non può essere accettata, perché non sono io, non è Macron, non è chiunque altro che può decidere per loro e può metterle davanti a un vincolo del genere. Io in chiusura quello che posso consigliarvi è la riflessione proprio su questa decisione del governo francese di Asma El Badawi, che è una giocatrice di basket, un attivista ed è testimonial per l'Adidas che si è sposta con l'ultimo post su Instagram proprio su questa vicenda e con parole chiare. Io credo che proprio è il Badawi che ha combattuto questa battaglia e l'ha vinta può essere un esempio fondamentale secondo me per rendere un po' la questione. Io ve lo leggo, ma non leggo tutto ovviamente, parto però dalle prime parole. Nessuno deve essere obbligato a scegliere tra la propria fede e lo sport che ama. Quando ho continuato a giocare dopo aver lasciato la scuola, mi sono sentita come una delle poche che della mia comunità musulmana poteva farlo. Leggo ancora l'ultima parte, ieri il senato francese ha votato per evitare le jab nelle competizioni sportive. Un divieto che esclude molte donne che amano lo sport e che si sentono lo sport come una parte fondamentale della propria identità e della propria salute mentale. È una vergogna che dopo numerose campagne globali per permettere a tutte le donne musulmane di poter fare sport mentre indossano le jab, la Francia sceglie di rimuovere questa libertà di scelta alle donne musulmane. Il mio consiglio finale è questo, è di ascoltare queste voci e di cercarle non solo di Asma e Badawi ma si trovano tanti atleti che questa battaglia l'hanno combattuta, questa battaglia l'hanno vinta e che adesso sentono propria non solo la battaglia delle donne francesi di poter giocare col velo ma di tutte le donne di poter vivere come si sentono e meglio e credono. Time's Up si chiude qua e speriamo di tornare presto.